Mi chiamo Michele Virdis, sono Fabio, ciao mi chiamo Bruno, sono Gregorio Lanfranchi, sono Fabio 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 Lanfranchi, Grazie a tutti. Norton Line nasce da un gruppo di amici, l'idea comune è di andare a creare proprio un vero movimento legato a questo territorio, organizzare dei table day, li riuniamo, andare a sistemare dei percorsi. Mi piace andare in bicicletta perché mi piace stare per aria, ho detto francamente, non vorrei mai smettere. Mi piace andare in bicicletta perché mi entico di tutto come se la mia mente rimane libera. Ci troviamo a Valgrigantino, nello specifico Valgrdert, che è una distina, ha un prodotto di cervecco. Da quasi 18 anni ho un gruppo di circa 10 ragazzi che vengono a mantenere questo posto vivo e attivo. Siamo super gasati e continuiamo a pesire. Vado a pedalare, vado a saltare perché mi rende felice, mi rende libero. E Valgrigantino per me è questo posto, visto come casa perché appunto ci sono nato e cresciuto nel stile di riding. Venga! Venga! ahhh 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 che trovo io ahhh 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 Luis Conrado Anna Crivelli Kevin Zamarian Mauro Toffaletti Chi vi conosce, mi conosce come muro è sempre stato uno molto scalmanato siamo arrivati lì lui ha iniziato a girare e tutto quanto e gli ho detto che figata non fammi provare allora ho provato e da me mi sono innamorato siamo venuti qua pensando di trovare una giornata di sole al massimo poca neve ma ce n'è davvero tanta proviamo a fare qualche salto qui al mottolino aspetta 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 rallenta tanto ma dai possiamo chiuderlo fattibile qualche salto si riesce a fare qualche trick anche mi è sempre 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 piaciuta una passione proprio anche di imparare di crescere di evolvere quella adrenalina di cui avevo bisogno la mountain bike per me è conoscere nuova gente e stare bene insieme e condividere questa passione che finisce tanto comunque nasce dal pre-ride che alla fine non era altro che quattro fuori di testa che dicevano con la neve oh ma che bella dai andiamo giù è nato così è andato bene è andato bene andiamo tanto in bici assieme un nostro sport preferito perché è proprio puro e adrenalinico perché unisce qualcosa di nuovo qualcosa di emozionante ci sta meglio di dire no? eh sì bravo eh è della stilista mi ha letteralmente salvato la vita cioè sembra esagerazione però uh uh paera uh uh eh uh